A seguito delle dimissioni due membri del Consiglio di Gestione come sindaci ci siamo trovati più o meno spontaneamente per capire e per approfondire le motivazioni per le quali questi due membri sono dimessi. Quindi ho convocato la conferenza dei servizi. A cittadella nella stede dietro sindaci riuniti davanti al presidente Leverato in assemblea sono girati i nomi dei due possibili sostituti dei consiglieri dimissionari per il bassanese Rosanna Filippine e Giampaolo Bizzotto, gli unici candidati anche se l'ex sindaco di Bassano è da scartare per questione quaterosa. Fumata nera dunque, i primi cittadini hanno deciso di darsi ancora tempo prima di prendere una decisione definitiva permettendo così nuove possibili candidature. Intanto sono stati fondamentali alcuni chiarimenti. Una è rispetto alla richiesta di atti che afferiscono alle indagini che Corte dei Conti sta facendo su alcuni dipendenti di ETA, su quali siamo già espressi, insomma sulle quali indagini attendiamo di vedere se ci saranno dei risultati oppure no. La seconda partita è invece alcune attività finanziarie che ETA svolge con fondi di tesoreria e che alcuni sindaci hanno chiesto di poter approfondire perché non erano conoscenza e vogliono capire di cosa si tratta. Sono stati dati molti chiarimenti, chiaramente una parte di sindaci è sedetta soddisfatta di queste spiegazioni, da parte di alcuni altri sindaci permangono per Policità, però insomma penso che sia nella natura delle cose. È importante avere un appuntamento anche in tempo veloce per avere le informazioni.